La Sicilia è un luogo di sorprese, un'isola magica. Dall'amore, dalla passione e dal profondo rispetto che nutro verso quest'isola, la mia isola, dove sono nato e dove vivo, nasce Sicilia Doc, il canale che vi porterà nei luoghi più incantevoli. Tra le affascinanti tradizioni, l'eccellente cucina e tante altre sorprese. Sicapù!